A Torino sei macachi stanno per essere accecati. All'interno delle università verranno eseguiti una serie di esperimenti che porteranno a creare dei danni permanenti a questi poveri animali. Per delle sperimentazioni neanche chiarissime, la LAV ha provato a fare un accesso agli atti presso il Ministero della Salute, ma tale accesso l'è stato negato, guardo a caso. La sperimentazione può essere portata avanti senza l'utilizzo degli animali, ci sono metodi alternativi. Iniziamo a credere in questi metodi, a investire in questi metodi alternativi, lasciamo stare gli animali. Se anche tu sei d'accordo con me, firma le petizioni di change.org, saldiamo i macachi di Torino. Io l'ho fatto, fallo anche tu.